Henri Matisse, pittore e scultore francese, nasce il 31 dicembre del 1869 a Le Chateau Cambresy, una cittadina nell'estremo nord della Francia. Dal 1895 al 1899 frequenta lo studio del pittore francese Gustave Moreau, dove studia i lavori di Manet e di Cézanne risentendo delle esperienze dell'impressionismo. Dopo alcuni soggiorni in Inghilterra, in Corsica e nella regione di Tolosa, nel 1902 riesce a esporre alcune opere a Parigi, tra le quali ricordiamo Veduta di Notre Dame nel tardo pomeriggio, dipinta nello stesso anno. Come già accennato in precedenza, pochi anni dopo faranno il loro debutto ufficiale sulla scena artistica parigina, i FAUV, di cui Henri Matisse è massimo interprete. Tra le sue opere maggiori ricordiamo Nudo Blu del 1907, La Danza, nelle due versioni del 1909 e del 1910, e Musica, sempre del 1910. Della sua produzione negli anni venti è celebre la serie delle odalische. Negli stessi anni Matisse è attivo anche nel campo della scenografia, del disegno dell'incisione, mentre a partire dagli anni trenta inizia la sua produzione di razzi di sculture in bronzo. Nel 1941 dipinge la famosa Natura morta con Magnolia. Due anni dopo, nel 1943, si stabilisce a Vans, dove dal 1949 al 1951 si dedica alla realizzazione della Cappella dei Dominicani della Madonna del Rosario. Matisse Morianizza il 3 novembre del 1954. Bene, parliamo adesso dell'opera intitolata La Danza, che è il nome di due dipinti a olio su tela del pittore francese Henri Matisse, che rappresentano in modo esemplare la sua poetica e il suo stile pittorico. La prima versione del 1909 è di 259,7 x 390,1 cm, quindi molto grande, e conservata al Museum of Modern Art di New York, quindi al MoMA di New York. Mentre la seconda, del 1910, 260 x 391 cm, quindi molto simile, si trova al Museo dell'Ermitage di San Pietroburgo ed è considerata una delle più significative del pittore francese. Quindi in questo video ci occuperemo della seconda versione, che viene commissionata nel 1909 dall'imprenditore e collezionista russo Sergei Shukhin, che già dal 1906 acquistava con regolarità sia le opere di Matisse sia quelle di Picasso. La danza è stata pensata per essere esposta in combinazione con un altro suo lavoro intitolato Musica, come se i danzatori si muovessero al ritmo della musica proveniente dall'altro quadro. Notiamo anche le molte similitudini tra i due dipinti. Dal punto di vista cromatico, decisamente Faux, che vede l'utilizzo di solo tre colori, quasi identici, tranne per la superficie dove i personaggi stanno in piedi o seduti, ma anche dal punto di vista della composizione, in cui i personaggi sono sempre cinque e vi è uno sfondo e una parte di suolo. La danza viene esposta al Sonondo Tom del 1910, dove riceve giudizi fortemente negativi. Nella tela sono rappresentate cinque persone nude che ballano tenendosi per mano. I dettagli sono pochi, sia per quanto riguarda l'ambiente, sia per i personaggi, i cui corpi, appena delineati, trasmettono con le loro pose un forte dinamismo, che risulta maggiore rispetto alla prima versione, sia per effetto dei colori più decisi, sia per alcuni dettagli dei ballerini. Soprattutto le teste chine dei ballerini nella parte superiore, che danno l'idea di movimenti più frenetici. Riferendosi alla danza, Matisse scriverà Il primo elemento della costruzione fu il ritmo, il secondo una vasta superficie blu scuro, allusione al cielo mediterraneo nel mese di agosto, il terzo un verde scuro, il verde dei pini mediterranei. Partendo da questi elementi, i personaggi non potevano che essere rossi, per ottenere un accordo luminoso. Fine della citazione. La danza non descrive un singolo accadimento, ma attraverso la composizione semplificata e i colori utilizzati vuole raccontare la forza incontenibile della vita, il suo continuo movimento e il suo eterno rinnovarsi. Di grande importanza in questo muoversi gioioso ma anche frenetico è l'unione e il rapporto con gli altri. Due delle figure rappresentate, quella a sinistra e quella al centro in basso, cercano infatti di ristabilire il contatto che hanno appena perduto, slanciandosi l'una verso l'altra con grande enfasi. Quella al centro è tutta protesa verso quella a sinistra che a sua volta ruota il busto e distende il braccio per cercare di raggiungerla. Tutto ciò non accade però in maniera caotica. Matisse infatti dispone ogni corpo in modo armonioso, secondo un rapporto ben calcolato che tiene conto degli spazi tra le figure e delle proporzioni di tutti gli elementi della composizione. Il pittore spiega questa sua ricerca di armonia con le seguenti parole «Il mio obiettivo è rappresentare un'arte equilibrata e pura, un'arte che non inquieti né turbi. Desidero che l'uomo stanco, overato e sfinito, ritrovi davanti ai miei quadri la pace e la tranquillità». Fine della citazione. I colori dominanti sono il blu, il rosso e il verde che permettono di distinguere nettamente ogni elemento e mostrano immediatamente e senza dubbi l'intento fortemente ideale della composizione. Cioè, ideale significa che non ha alcun intento di tipo naturalistico, cioè di imitazione del reale. Grazie mille! Grazie a tutti